Ciao, sono Corinne e oggi sono stata qua al corso di Patrizia Sette Educati. È stato un lavoro molto profondo, molto bello. Patrizia è una persona molto solare, porta una bellissima energia. Abbiamo fatto diverse meditazioni, sia statiche che dinamiche, quindi è una possibilità di poter anche capire quali sono le modalità migliori per ognuno di entrare in contatto con un lavoro personale su se stesso. Quindi è veramente molto ricco e molto intenso, quindi lo consiglio per chi vuole avvicinarsi a una persona seria, preparata, connessa. Grazie mille!